Stiamo andando verso la fine del 2023 ed è assolutamente necessario avere dei lavori secondari che ti permetteranno di guadagnare da ora in previsione del 2024. Non so se ve ne siete accorti ma i soldi sono letteralmente ovunque. Tutto quello che dovete fare è prenderveli. In questo video voglio mettere una lista di 15 lavori secondari che potrete iniziare oggi stesso solamente avendo un portatile, una connessione wifi e tanta voglia di lavorare. Non dico che queste cose vi renderanno milionari ma almeno vi permetteranno di sostituire il vostro reddito attuale. Prima di entrare nella lista dei lavori secondari ci sono tre cose fondamentali che moltiplicheranno per 10 i risultati che otterrete da questo video. Per prima cosa voglio che analizziate tutti i modi in cui state spendendo soldi. So che la maggior parte delle persone non lo farà ma ora voglio che prendiate il vostro estratto conto bancario e analizziate tutti i posti dove state spendendo soldi. Oltretutto vi ho fatto anche un video al riguardo dove spiego come poter risparmiare 10.000 euro. Quindi dopo aver visto questo video vallo a vedere. Dovete capire che il business è solamente uno scambio di denaro con del valore. Più sarete consapevoli dei posti dove state spendendo del denaro in cambio del valore, percepito o reale, più la vostra capacità di guadagnare migliorerà. La seconda cosa è che se state cercando di proporre un servizio a qualcuno dovete assicurarvi di dargli prima una demo, una prova del vostro servizio. Questo accelererà di molto il loro processo decisionale e la loro disponibilità a darvi realmente dei soldi. Questo concetto si riduce a un semplice fatto, ovvero non dirmi ma dimostrami. Quando gli fornirete una demo, una prova del vostro lavoro saranno sicuramente molto più propensi a lavorare con voi. E numero 3, fate più proposte e più lavoro di quanto vi viene richiesto. I soldi sono ovunque, ma dovete essere abbastanza furbi ad andarveli a prendere. Come ho già detto, sto per andare ad elencarvi 14 idee di lavori secondari. Secondo me la differenza tra un business ed un lavoro secondario è che il business è qualcosa in cui cerchi di buttarti a capofitto, in cui cerchi di fare 75, 100 mila, 250 mila euro l'anno. Un lavoro secondario è più un qualcosa che ti aiuta ad alzare un po' le tue entrate mensili. Comunque adesso entriamo nella lista di questi lavori. Per primo abbiamo la creazione di contenuti su TikTok. TikTok in questo momento sta esplodendo grazie ai suoi algoritmi ed è un bene prezioso sia per le persone ma anche per le aziende. Quindi che si tratti di contenuti creati dagli utenti per le aziende o di essere semplicemente un editor di video TikTok per un influencer, ci sono molte possibilità. Per esempio ci sono tanti podcast in giro nei quali potete chiaramente prendere i loro contenuti e ripubblicarli. Facendo questo potreste iniziare a guadagnare anche subito dopo una settimana. Come secondo abbiamo il graphic designer. Se siete bravi con il design, con le grafiche, andate su Twitter e cercate tipo cerco designer, cerco grafico, cerco logo. Oltre ai soliti siti come Fiverr o Upwork, su Twitter potrete trovare degli utenti interessati a cercare un buon graphic designer. Ed è un posto molto facile e veloce dove trovare i clienti. Dovete capire che ci sono centinaia di migliaia di aziende che cercano continuamente dei nuovi graphic designer. Sempre migliori rispetto a quelli che già hanno. E la differenza di paga tra un bravo graphic designer e un ottimo graphic designer sono notevoli. Come terzo abbiamo un'agenzia di marketing. Qualsiasi tipo di servizio, letteralmente qualsiasi cosa. Creazione di contenuti, annunci Facebook, annunci Google Ads, Instagram Ads, TikTok, email marketing. Qualsiasi cosa che aiuti le aziende a fare più soldi. E un aspetto interessante dell'agenzia è quello di usare la leva. Ovvero non facendo più tutto da soli, ma usando il drop servicing per far svolgere i servizi a qualcun altro. Ovvero voi trovate i clienti e poi incaricate qualcun altro che magari trovate su Fiverr o su Upwork per svolgere questo servizio. Come quarto lavoro secondario abbiamo poi lo YouTuber. Se avete qualcosa di cui siete entusiasti, di cui parlare, qualcosa di cui non riuscite a smettere di parlare con i vostri amici e avete sempre pensato di avere una buona predisposizione davanti alla videocamera, beh, fare lo YouTuber può essere molto redditizio. Tenete presente che all'inizio chiaramente i guadagni saranno molto bassi ed anche molto lenti. Ma anche se guadagnate solo 1500 euro al mese di extra, parlando di un qualcosa del quale avreste già parlato a prescindere, direi che è tutto di guadagnato. Come quinto lavoro ci sono le pagine a tema su TikTok. Tra il 2014 e il 2020 la gente guadagnava un sacco di soldi con le pagine a tema su Instagram. Io stesso mi sono approcciato a quel mondo in quegli anni. La prima attività che ho avviato è stata aprire pagine a tema su Instagram, comprando e rivendendo account, riprendizzandoli in nicchie più profittevoli, vendendo anche spazi pubblicitari e cose del genere. Si parla comunque di diversi anni fa e magari ci farò anche un video al riguardo. Commenta se vuoi un video dove ne parlo. Ora comunque il mercato è molto saturo, ecco perché ho smesso. Le pagine a tema su TikTok sono quindi la nuova ondata. Come sesto lavoro secondario abbiamo lo script writer per YouTube. Mettiamo il caso che siate attratti ed interessati a un determinato argomento, ma semplicemente non abbiate la personalità adatta per fare video su YouTube. Potete comunque essere uno script writer per uno YouTuber. Sostanzialmente dovete scrivere i testi del loro video. Vi basta pensare anche solo al mondo della musica. Ci sono tantissimi script writer che ne fanno parte. E sono anche il cuore e il motore di alcuni artisti molto famosi. E voi potete fare lo stesso diventandolo per uno YouTuber o per un content creator. Come settimo lavoro secondario abbiamo il coach. Se c'è qualcosa che padroneggi o nel quale sei talentuoso, che sia un coach di scacchi o di chitarra o di fitness, potete aiutare le persone ad imparare. E se avete un po' di dubbi per il coaching, ad esempio perché dovrebbero pagarmi, iniziate con una tariffa oraria molto bassa, sui 20 euro l'ora e giù di lì. E poi pian piano aumentate. Un altro lavoro secondario è il video editing. I contenuti sono la forma migliore di marketing al momento. Quindi se sapete creare video per gli altri, che siano short, real, TikTok o video veri e propri per YouTube, e sapete farlo anche rapidamente perché spesso molti video editor sono lenti, lo fate puntando al massimo coinvolgimento della audience. Quindi dicendo ai clienti, edito i tuoi video per ottenere la massima retention possibile. Quindi la percentuale più alta di persone che guarda dall'inizio alla fine il video. E in questo caso vincerete di sicuro. Poi abbiamo anche la vendita su eBay. Ottimo se avete già un sacco di roba da vendere subito. Se non ce l'avete, potete acquistarla e rivenderla su eBay. Ho fatto un video dove vado a spiegare questa cosa con Vinted, ma puoi applicare la stessa cosa anche per eBay. Molti concorrenti non sanno come gestire il marketing, le foto, le descrizioni. Se invece voi sapete farlo, avete un grande vantaggio competitivo. Questo lavoro secondario esiste già da migliaia di anni e ci sarà sempre un'opportunità di arbitraggio. C'è sempre una differenza tra chi sa fare marketing e chi no. Se due persone vedono la stessa cosa, ma una non sa fare marketing e l'altra sì, questa persona venderà il doppio, il triplo, dieci volte tanto ed avranno comprato entrambi allo stesso prezzo. Poi abbiamo il copywriting. La gente paga tantissimo se potete gestire le loro mail, newsletter, aggiornamenti Facebook e in qualsiasi forma per aiutarli nei loro contenuti scritti. Copywriting e vendite saranno due competenze che vi serviranno comunque per tutta la vita, non importa il settore. Quindi che sia per email, pagine di destinazione, script di vendita, post Twitter, qualsiasi cosa per aiutare le persone ad esprimersi, presentarsi e vendere di più attraverso un testo, voi in cambio sarete pagati bene. Parlando di competenze che vi dureranno per tutta la vita, dobbiamo parlare di vendite. I lavori di vendita da remoto hanno un potenziale incredibile. Ecco, probabilmente questo non rientra nella categoria lavori secondari, perché di solito se vendi un servizio, un coaching, un prodotto, vogliono che tu lavori a tempo pieno. Non pensare di guadagnare subito 50.000 euro al mese, ma se trovate l'organizzazione giusta, potete guadagnare anche dai 5 ai 15.000 euro al mese, in base ovviamente alla vostra capacità di vendita. Il problema è che la maggior parte delle persone ha paura di rischiare, ha paura di vendere in questo modo, a queste ripetizioni, a questo volume. Questo perché praticamente passi tutto il giorno a vendere. Ma se hai intenzione di metterti in gioco, questo può fare il caso tuo. Come dodicesimo lavoro secondario abbiamo la creazione di miniature per YouTube. Posso dirvi che le miniature sono importantissime. Ve lo dico perché l'editing di miniature, se lo proponete nel modo giusto, non è una commodity. La maggior parte delle persone si propone dicendo, «Sì, ti posso fare le miniature, ma siete un servizio come tanti, vi pagheranno 5, 10, 50 euro a copertina». Dovete invece dire «Io creo miniature che aumentano il tuo CTR del 25%. I tuoi video passeranno da un CTR ipotetico del 4-5% al 25%. Questo vuol dire 25% di visualizzazioni in più il mese prossimo. Questo solamente se mi ingaggi. In questo modo non siete più una commodity, e potete chiedere anche 1.500-2.000 euro al mese. State vendendo un risultato, non un servizio». Idem per il web design, non siate una commodity. Spiegate i benefici e i ROI che avrebbe il vostro cliente ingaggiandovi. Idem anche per l'affiliation marketing. Serve comunque del tempo ed hai bisogno di una audience. Ma se ad esempio parti facendolo YouTuber, nel tempo inizierà a pagarti. Un consiglio che posso darti è quello anche di andare su Upwork e guardare i servizi ricercati e offerti in questo momento. Ti darà idee su cosa puoi offrire e dove sta spingendo il mercato in questo momento. Infine, come quindicesimo lavoro secondario, abbiamo la moderazione su Discord. Tantissime community su Discord hanno migliaia di persone al loro interno, ma hanno bisogno di moderatori per poter gestire la community. Potreste anche creare un'agenzia di moderazione. Se siete bravi potete creare un team che modera 10, 50, 100 mila persone e potrete essere ben pagati per farlo. In sintesi, non prendete questi consigli come verità assoluta. Volevo solamente farvi venire delle idee, perché come ho detto ci sono molti soldi in giro. Basta impegnarsi, scegliere un qualcosa e andarsela a prendere. E soprattutto non c'è momento migliore di iniziare adesso. Quindi forza, iniziate e farò il tifo per voi. Iscrivetevi e lasciate un like. E noi, come sempre, ci vediamo al prossimo video.